Sono stati presentati in Comune a Pordenone i nuovi corsi dell'Istituto Tecnico Superiore Alto Adriatico, in partenza d'ottobre per il Bienio 2023-2025. Si tratta di sei corsi full-time che l'ITS, di cui il Comune di Pordenone è socio, propone nell'ambito dell'alta specializzazione tecnologica, rivolta all'innovazione, all'informatica e al mondo digitale. Cloud Developer, Digital Solution 4.0, Front-End Developer, Cyber Security, Web Analytics, Metaverso e Digital Twins. Tutti approfondiscono l'intelligenza artificiale applicata in diversi settori, dal marketing allo sviluppo di applicazioni web e alla sicurezza informatica. Oltre alla didattica, ciascun corso prevede ben 800 ore di stage e un contratto di apprendistato. Esperienza formativa di primo ordine nella quale si dà agli studenti un taglio concreto di ciò che concerne il mondo del lavoro. Molti docenti provengono dalle imprese e i corsi sono progettati sulle esigenze aziendali reali del nostro territorio, tanto che il 95% di questi superperiti trova lavoro entro i primi sei mesi successivi al diploma. Uno degli obiettivi di questa amministrazione è sostenere il percorso dell'ITS, che consente a tanti ragazzi di poter appagare le proprie ambizioni, le proprie competenze, la propria professionalità, ottenendo un lavoro quasi sicuro e garantendo anche, dall'altro lato, un apporto fondamentale al sistema manifatturiero pordenonese. Infatti il problema di oggi è trovare queste figure. Quindi dobbiamo promuovere per consentire alle famiglie di valutare attentamente questa opportunità, che ripeto, da un lato appaga i ragazzi e dall'altro lato consente di creare quelle figure occupazionali che sono disperatamente ricercate oggi alle nostre imprese. Il Comune è impegnato sul fronte della formazione e dei giovani. Credo che sia il modo migliore per dare un'opportunità professionale di vita ai giovani, quello appunto di fare leva sulla formazione e sul lavoro. Tutti ne parlano, c'è scritto in tutti i programmi elettorali, se ne parla in tutti i convegni. Il problema è renderlo pratico. Noi stiamo cercando di farlo affiancando sia l'Università di Pordenone, che è in crescita in termini di iscritti e di corsi, sia l'ITS, cui daremo una nuova sede. C'è da sottolineare una cosa riguardo all'ITS, e cioè che non è assolutamente una formazione post-diploma di serie B, anzi, siamo in serie A, direi di più, in Champions League. Cioè è una formazione che dà, oltre a un lavoro sicuro, la garanzia di lavorare in un settore chiave della nostra società, che è dominata dalla tecnica, dalla tecnologia e dell'informatica. Per poter frequentare questi corsi è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore e superare le prove di selezione. Questa prevede un test di lingua inglese, un test per le competenze in Information and Communication Technologies, è un colloquio motivazionale. Le nostri bandi sono pubblicati sul nostro sito. Le prime selezioni sono previste nel periodo tra il 19 e il 21 di luglio, per la sessione ordinaria, e poi a settembre, il 13 di settembre, per quanto riguarda i corsi di Pordenone, e il 19 per quelli di Amaro. Per info e per iscriversi alle prove di selezione,